Musica Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video Io sono Xuder e ragazzi oggi voglio parlarvi al volo di come completare una delle sfide Più particolari della settimana numero 6 La sfida che ci chiede di trovare le diverse partiture nella mappa Come abbiamo letto ragazzi nella prima fase delle due fasi che comprendono la sfida Bisogna andare a Parco Pacifico Tutto quello che dovrete fare una volta arrivati a Parco Pacifico è entrare in questa casa ragazzi Come vedete ci potrebbe già essere gente che ci sta aspettando Quando noi entriamo e molto velocemente recuperiamo il nostro spartito Come vedete ragazzi una volta raggiunta questa montagna di fianco Ci troveremo di fronte ad un piano E la sequenza che dovremo premere per fare la missione è Per la seconda e ultima parte della missione basta semplicemente scendere a Corso Commercio E raggiungere il più rapidamente possibile il primo dei due negozi che ci sono nella parte più esterna del corso Entriamo come stanno facendo questi e come vedete recuperiamo qua lo spartito Raggiunto quindi il secondo pianoforte vicino a Corso Commercio Se riusciamo a non essere ammazzati velocemente la sequenza da fare è questa A E F A E C A Si Fatto questo ragazzi terminerete tutte le missioni della partitura e potrete andare avanti con le altre Io vi ringrazio per avere guardato questo video Noi ci vediamo tra poco in live Ciao Noi ci vediamo Noi ci vediamo